volata, gli porta via il pallone Del Piero Marchionni per Del Piero in area di rigore il sinistro di Del Piero e sono tre tre a uno Juventus Alex Del Piero battezza così la sua cinquecentesima presenza in maglia bianconera al ventiduesimo del secondo tempo Del Piero batte Gile e porta la Juventus sul tre a uno perfetto il passaggio di ritorno di Marchionni per Alessandro Del Piero che si è venuto a trovare da solo in area di rigore del Bari e ha battuto con un preciso sinistro Gile Grazie